Altro che politica balneare. Sono passati i tempi dei banchi del Consiglio regionale equiparati ai banchi di scuola, con tre mesi di vacanze estive tutto compreso. In era di primarie, almeno nel centro-sinistra, le fibrillazioni di luglio contribuiscono ad alzare una temperatura già di per sé torrida. Se nel PD le acque sono già abbastanza mosse, con l'eterno candidato in pectore Michele Emiliano insidiato da un lato dalla proposta rosa di Elena Gentile e dall'altro dalle aspirazioni mai sopite di Guglielmo Minervini, anche in SEL i terremoti degli ultimi mesi, dal coinvolgimento di Vendola nell'inchiesta ILVA alla spaccatura in Parlamento tra i pro e i contro Renzi, sembrano aver inclinato i rapporti all'interno del partito. Tanto che la candidatura di Dario Stefano, ufficializzata la settimana scorsa, non sarebbe gradita a buona parte del partito. E se Vendola nell'assemblea regionale di SEL delle prossime ore dovrebbe ufficializzare la rinuncia definitiva a provare a raggiungere il terzo mandato da governatore, sono in molti ormai a smarcarsi da quello che in teoria dovrebbe essere il candidato ufficiale, dal deputato Tony Matarrelli, che sembrerebbe appoggiare Emiliano, all'area socialista che fa riferimento al presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna, che continua a smarcarsi da SEL sottolineando di non essere mai stato iscritto al partito e che potrebbe presentare un proprio candidato alle primarie dopo il buon risultato alle comunali di Bari, dove è stato eletto il figlio di Introna, Pierluigi. Intanto anche i cespugli del centrosinistra, anche senza più la quercia, cercano di organizzare le forze, sperando che dalle regole delle primarie venga tolto il limite delle 9.000 firme necessarie per presentare un candidato. Se così fosse la platea si amplierebbe e di conseguenza la possibilità per i piccoli partiti di misurare la loro capacità di influenza in caso di nuove vittorie della coalizione di centrosinistra.